Un episodio, una vicenda, un anno della storia antica molto noto, direi scolasticamente prima ancora che dal punto di vista della ricerca, l'anno 63 a.C., che ha segnato un momento di grande crisi della Repubblica già molto provata e nel parlare di quell'anno risaliremo un pochino all'indietro per capire come ci si arriva. I due consoli di quell'anno nella Repubblica Romana sono l'uno Cicerone, notissimo per mille motivi, l'altro meno noto, Gaio Antonio, che potrebbe dire zio del Triunviro e quindi almeno di luce riflessa può brillare per il fatto di questa connessione con un personaggio che ha avuto poi nel seguito un rilievo enorme, il Triunviro Antonio. Entrando in argomento, già possiamo osservare i nomi di queste persone, i loro legami, rinviano ad una realtà, la realtà del carattere aristocratico della Repubblica. Non entro nella questione tanto ribattuta tra gli studiosi e tra i giuristi, soprattutto sulla natura della Repubblica Romana. Mi viene da dire, quando si tocca questo argomento, nella lingua latina non esiste la parola democrazia. Non c'è, c'è in greco, ma non c'è in latino. Non è una carenza, diciamo, lessicale, è una fortissima visione aristocratica del governo della città. È una Repubblica aristocratica. Potremmo dire che anche questa è una definizione parziale, impropria. Ci fu un personaggio, un greco, folgorato dal fenomeno della Repubblica Romana e del suo funzionamento, si chiamava Polibio, preso in ostaggio dopo la battaglia di Pidna, cento anni prima della vicenda di cui stiamo parlando, stiamo per parlare, portato a Roma come ostaggio, sconfitto, no? Lui aveva combattuto contro un grande generale della Repubblica. Entra nell'antourage della famiglia degli Scipioni, li frequenta. Sappiamo dalle fonti che a un certo momento questi ostaggi, uno dei quali era lui, appunto il grande storico Polibio, invecchiavano e allora un senatore disse ma questi vecchietti lasciamoli almeno defungere da uomini liberi, era un'ironia di un senatore romano. Polibio era diventato intrinseco della famiglia degli Scipioni e ha studiato il funzionamento della Repubblica e si è convinto, forse non ha torto, che quel tipo di assetto politico costituzionale aveva la peculiarità non realizzata in realtà nelle città greche di cui Polibio aveva esperienza e di cui gli storici prima di lui avevano raccontato le vicende e cioè la Costituzione mista. Questo è un termine che forse torna d'attualità nel mondo anglosassone in particolare, direi soprattutto americano più che inglese, torna il culto della Costituzione mista, cioè della compresenza dell'elemento monarchico, aristocratico e democratico dentro il medesimo ordinamento. Ci si può chiedere se sia un'illusione, se sia invece una forma per celare il carattere non propriamente democratico di un determinato ordinamento. Nella fattispecie Polibio si convince che quel tipo di composizione, di equilibrio, i consoli rappresentano il potere monarchico, però durano un anno soltanto e sono due, quindi si limitano a vicenda. Il Senato è un organo di cooptazione, o meglio è indirettamente elettivo perché chi ha incominciato il cursus honorum, ha ricoperto il primo gradino, molto importante peraltro, la questura, entra nel senato. Ciclicamente però i censori analizzano le carriere, i comportamenti dei senatori, si chiamano censori anche per quello, e quindi determinano eventualmente la radiazione di alcuni. Il numero dei senatori è un po' oscillante, in certi momenti viene ampliato per diluirne il potere, Cesare addirittura li fece arrivare a 900 e metteva dentro il Senato anche persone del suo entourage militare che non avevano nessuna qualifica particolare. Però, insomma, prima di arrivare a questa degenerazione del Senato di epoca cesariana, il Senato è un organo di cooptazione che conta molto più di quanto il nome comporti. Teoricamente è l'organo che viene consultato dai consoli, i quali prendono le decisioni, ma col passare del tempo diventa un organo che pesa molto di più che nei limiti di una funzione puramente consultiva. E poi c'è un contropotere, potremmo dire, raffigurato, concretamente rappresentato dai tribuni della plebe, i quali sono invece eletti nei comizi a plebis e tributa, cioè c'è una sorta di distinzione anche formale tra i comizi centuriati che eleggono i magistrati, i pretori, i consoli, gli edili, e i comizi della plebe, i comizi a plebis e tributa, che eleggono i dieci tribuni della plebe. Quindi già in origine è un contropotere. Un contropotere che ovviamente viene inquinato, combattuto, sedotto. Alcuni tribuni nella storia repubblicana del ultimo secolo della Repubblica hanno fatto una fine tremenda, pensiamo ai due fratelli Gracchi, per esempio, a distanza di dieci anni l'uno dall'altro, entrambi ammazzati in maniera diretta, Tiberio Gracco addirittura fisicamente da senatori inferociti, convinti di che lui avesse chissà quali aspirazioni al regnum. Ecco, in questo equilibrio delle forze c'è un elemento determinante, le campagne elettorali. Come funziona l'elezione dei magistrati? La più importante magistratura, come è chiaro, è per l'appunto il Consolato, che è il culmine della carriera. Non come in altre strutture, diciamo, più democratiche del mondo greco. Secondo, l'ordinamento militare, le centurie, le centurie della prima classe di censo, le centurie dei cavalieri, le altre centurie. Il segreto, diciamo, di questo meccanismo qual è? Che le centurie delle classi più abbienti comprendono meno persone che le centurie delle classi meno abbienti. Semplifico un pochino, ma credo che sia chiaro. Per cui, quando le centurie dei senatori e dei cavalieri si coalizzano, hanno già la maggioranza e quindi gli eletti rispecchiano una maggioranza di carattere, per così dire, moderato conservatore. Non accade sempre. C'è stata una lotta per consentire, per esempio, ai plebei di accedere al Consolato. Una lotta che è durata moltissimo tempo. Le campagne elettorali sono molto combattute, naturalmente. Non sempre le due prime classi di censo vanno d'accordo, quindi questo determina anche una mobilità maggiore. Tornando a Polibio, ammiratore di questo meccanismo, elemento monarchico, elemento aristocratico, elemento popolare, notiamo, osserviamo con una certa ammirazione, nel fatto che lui, quando racconta nella sua grande opera storica, purtroppo in larga parte perduta, il momento più critico a sua conoscenza, lui è morto poco dopo l'assedio di Numanzia, quindi diciamo alla fine del II secolo a.C. è già morto, ha visto però una storia molto lunga. Il momento più critico è Canne, la battaglia di Canne, Annibale che vince una battaglia che nelle guerre tra città greche sarebbe stata risolutiva e mortale. E la Repubblica Romana regge ad una sconfitta inverosimile, di una gravità estrema, Polibio dice perché? Per il suo assetto costituzionale. Mentre le città greche dilaniate da conflitti fra popolari e oligarchi sono votate al fallimento, la Repubblica Romana ha dentro di sé una struttura sociale e politica tale da reggere anche a disastri militari di quel tipo. C'è del vero in questa diagnosi e quindi noi possiamo apprezzare con Polibio la costruzione, almeno come l'ha vista lui al tempo suo, di questa Repubblica. Ma il tempo al quale invece noi ora stiamo per avvicinarci, cioè i primi 20 anni, gli ultimi 20 anni di vita tra la congiura di Catilina, cosiddetta 63 a.C. e l'uccisione di Cesare in Senato nel 44 a.C. passano esattamente 20 anni e sono 20 anni di convulsione, di continuo scivolamento nella guerra civile. Si può addirittura chiedersi ma quando comincia la guerra civile romana? Un grande personaggio di origine greco-alessandrina, quindi un po' egiziano, un po' greco, vissuto sotto gli Antonini, si chiamava Appiano, era nato appunto da Alessandria, racconta le guerre civili romane partendo dal tribunato di Tiberio Graccor, il 133 a.C. Doveva arrivare fino alla battaglia di Azio nel 31, quindi 100 anni, in realtà non arriva fin lì, ma insomma dedicò altri libri poi alla vicenda della guerra di Azio, periodizza la storia delle guerre civili come un intero secolo di guerre civili, dal tribunato di Tiberio Gracco alla vittoria finale di Ottaviano contro Antonio ad Azio, quindi la nascita del Principato. 100 anni. Un grandissimo storico di Roma, della vicenda romana, Theodor Momsen, un grande amico della città di Roma, peraltro che conosceva molto meglio dei romani stessi, nella sua opera più nota e anche letterariamente efficace, ebbe il Nobel per la letteratura con la sua Römische Geschichte, la storia appunto di Roma, intitola la sezione che racconta le vicende di quel secolo come il secolo della rivoluzione romana. Quindi le convulsioni politiche che travolgono il meccanismo stesso che ho prima descritto, hanno nell'anno 63 un punto molto alto, ma comincia questa crisi da molto prima. in fondo il protagonista passivo, attivo, a secondo i punti di vista, cioè Lucio Sergio Catilina, è nato nell'anno 108 a.C. Pompeo e Cicerone erano nati nel 106 a.C. Cesare era nato nel 100 a.C. Quindi Catilina era il più vecchio di tutti questi che ho nominato. era stato un sillano, aveva seguito Silla durante la guerra civile tremenda fra Mario e Silla, sanguinosissima, che coinvolge l'intera penisola italiana. Gli italici hanno ottenuto la cittadinanza romana dopo una guerra terribile dal 90 all'88 e la guerra civile mariana è subito dopo. È quasi un secondo tempo della guerra sociale. Al termine di questa convulsione da una parte si consolida il fatto che tutti gli abitanti della penisola a sud del Po sono cittadini romani. Hanno pleno iure, con pienezza di diritto, la cittadinanza romana. Dall'altro Silla impone a termine, non a vita, la dittatura, cioè adopera una magistratura esistente nell'ordinamento romano, ma che dura sei mesi e si può rinnovare, e si chiama appunto dittatura, per riordinare il funzionamento della Repubblica. Depone la dittatura per vedere se funziona il meccanismo che lui ha messo in atto e che ha tolto molto potere ai tribuni della plebe, questo è uno degli elementi caratteristici, e subito dopo il suo ritiro dalla politica si produce un nuovo episodio di guerra civile, l'insurrezione addirittura del console in carica, Lepido, zio del Lepido Triunviro insieme con Antonio e Ottaviano, vedete queste famiglie come sono ramificate nella storia della Repubblica. Il fatto però che tutti gli abitanti della penisola, dei municipi, delle colonie militari, ovviamente della capitale, siano pleno iure cittadini romani, comporta una conseguenza piuttosto macroscopica, e cioè il fatto che hanno il diritto di voto in quel rituale elettorale che ho prima ricordato, così strano, così complicato, modellato sulla struttura dell'esercito, delle centurie. Non vengono effettivamente a votare tutti gli anni tutti quanti quelli che avrebbero diritto di farlo, per mille ragioni, perché hanno poi nei loro municipi delle istituzioni municipali nelle quali si impegnano molto e che magari premono molto di più, però in alcuni momenti c'è una mobilitazione per portarli a votare a Roma. Il paradosso è che sono tutti cittadini romani, ma si vota nella città di Roma, sotto la direzione dei consoli in carica in quell'anno. E qui, saltando molti passaggi che è inutile analiticamente ripercorrere, veniamo alla vicenda di questo personaggio Damnatus, come dire, negativo in quasi tutte le raffigurazioni di lui, che è per l'appunto Catilina. Non è uno stinco di santo, questo lo diamo per assodato. Durante la guerra civile al seguito di Silla ha ammazzato un sacco di gente, in alcuni casi in maniera proditoria. Nelle guerre civili è normale che questo accada, purtroppo. Un grande letterato italiano che si chiamava Concetto Marchesi diceva che la guerra civile è la più sincera e la più feroce delle guerre. Lui aveva partecipato attivamente nel 1943-44 alla guerra di resistenza italiana. È una definizione un po' poetica, no? che è la più sincera. Però c'è un elemento di verità. Quello che accade durante le guerre civili a distanza di tempo lo si capisce meno. Non si riesce a mettere nello stato d'animo di coloro che in quel momento furono messi alla prova. Lo dico perché durante gli anni successivi a Catilina fu sempre rimproverato quello che aveva fatto negli anni, nei mesi della sua militanza sillana. Giustamente, ma alla fine era un gioco al massacro reciproco per cui superata quella vicenda quest'uomo intraprende il suo cursus honorum e come pretore ottiene per l'anno seguente alla pretura il governo provinciale. le campagne elettorali erano molto costose questo è un punto fermo la compravendita del voto noi parliamo sempre in maniera molto diciamo eufemistica di questo aspetto della lotta politica a Roma è un aspetto determinante e chi si impegna economicamente nella campagna elettorale spesso si rovina economicamente e la volta che è eletto e gli tocca poi un governo provinciale dopo l'anno della sua magistratura in provincia si rifà brutale diciamo come meccanismo però è questo abbiamo tante tracce letterarie di non so un poeta molto amato dagli studiosi sensibili Catullo sempre letto a scuola come poeta d'amore personaggio sanguigno ma anche con gravi difficoltà personali racconta in una poesiola molto ironica che il suo capo si chiamava Memmio che era stato pretore e andava in provincia come proprietore si è portato dietro Catullo e altri amici e si è rifatto economicamente però il povero Catullo non ha avuto quasi niente le briciole di questo saccheggio della provincia Catilina ha fatto la stessa cosa gli è toccata la provincia d'Africa ma accadeva anche perché in questa realtà molto combattuta della Repubblica Romana c'è sempre un fenomeno di compensazione i provinciali hanno diritto di denunciare il governatore che li ha spremuti e quindi gli intentano un processo lo denunciano alle autorità quindi i pretori in carica a Roma giudicano in processi nei quali l'imputato è l'ex pretore che ha governato una provincia contro cui è stato innescato un processo de repetundis e puntualmente questo accade è anche strumento di lotta politica anche Cesare all'inizio ha cominciato la carriera intentando processi di questo tipo chi fa questo si crea una clientela provinciale ma al tempo stesso una grande rinomanza cittadina insomma la verità ne soffre un pochino ma nel conflitto delle forze in campo certamente i provinciali hanno un diritto che gli viene riconosciuto il processo di Catilina è molto pesante per lui perché insomma i suoi comportamenti non sono stati certamente leggeri perché ma perché si era rovinato per conquistare l'apretura con la compravendita del voto dare feste sontuose anche Cesare si fa eleggere faticosamente pontefice massimo nell'anno 63 e quando uscì di casa per andare a votare disse alla madre o torno e vado in galera o torno pontefice massimo talmente si era indebitato per questa campagna elettorale e Bertolt Precht scrive un romanzo incompiuto purtroppo gli affari del signor Giulio Cesare che è tutto incentrato su questo tipo di commercio la compravendita del voto Catilina viene sottoposto a questo processo il suo difensore potrebbe essere Cicerone c'è una delle prime lettere di Cicerone al suo grande amico Attico il primo libro dei 16 libri che abbiamo di lettere ad Attico che dice Catilinam competitorem nostrum defendere Cogitamus cioè io mi accingo forse assumo la difesa di Catilina che pure è mio competitor per il consolato poi in realtà non fece questo perché perché Catilina ritirò la sua candidatura non potendo reggere chi è sottoprocesso non può candidarsi almeno questo diciamo allora era un punto fermo forse da ultimo un po' meno e quindi rinuncia a scalare l'ultimo gradino che è dall'apretura al consolato ritenta l'anno seguente l'anno seguente è l'anno 64 per l'anno 63 e in quell'anno i candidati più forti sono Catilina Medesimo Cicerone e Gaio Antonio e poi altri meno forti c'è l'anno seguendo l'anno seguendo l'anno seguendo Grazie a tutti